Cristina Di Marcello Revisi 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 Da bocciato a sbocciato mi fa molto ridere. Però prima di iniziare voglio chiedere ai presenti quanti di voi sono stati bocciati a scuola? Dai, dai. Avevo il terrore perché alle prove ho provato. Quanti bocciati tutti così? no, allora mi sentivo un po' da solo, adesso non mi sento più da solo no, vi dicevo, mi fa molto ridere perché rappresenta perfettamente due periodi ben distenti della mia vita ovvero dai 14 ai 23 anni, per cui il periodo scolastico, che per me è stato lungo quindi superiori, università e poi il periodo dai 23 ai 27, no, dai 23 ai 31 della scoperta, quindi sbocciato, doppio significato, tra sbocciare magari come un fiore per cui finalmente trovi la tua via, oppure sbocciare in senso proprio bottiglia proprio un gioco di parole così che mi faceva piacere portarvi oggi quando sono stato chiamato da Jessica per essere qua oggi, mi ha detto Giorgio tu parlerai di aria, effettivamente io potrei parlare di aria perché lancio oggetti per aria, io lavoro tantissimo con la gravità però pensavo che fosse qualcosa di limitante perché si può parlare sì di che cos'è il flair, del mio lavoro però l'aria di cui volevo parlare oggi è un'area diversa è un'area di cambiamento che non possiamo percepire intorno a noi ma arriva nell'esatto momento in cui ho veramente bisogno di sentire quell'aria e quel momento esatto è arrivato esattamente tra lo switch tra bocciato e sbocciato ai 23 anni, preciso, là e mi feci una domanda e la domanda è se io avessi la certezza di non poter fallire che cosa farei? Quale sarebbe il mio scopo? Ora, questa domanda mettiamola da parte come abbiamo fatto praticamente su tutto il tempo do una domanda, la metto da parte e andiamo a vedere qual è stato il mio percorso io ero il classico ragazzo, bravo, ma che non si applicava ma perché non mi applicavo? perché non volevo andare a scuola? anche ma non mi applicavo perché la mia infanzia è stata molto turbolenta ho passato praticamente dalla nascita fino all'età dell'adolescenza avendo un problema ai talloni io sono nato senza i talloni per cui, no, ce li ho, eh? ci sono però non si era calcificato per cui si chiama Morbo di Sever e in pratica tu non puoi fare attività sportiva non potendo fare attività sportiva cadi in una serie di cose conseguenziali tra cui aumento di peso perché nell'età giovanile aumenti di peso non puoi fare tante tipologie di sport che tutti i ragazzini della tua età fanno per cui cosa succede? vieni messo in una classe sempre in disparte ammetti quello metti un ragazzo timido so che magari oggi non sembra però timido impacciato leggermente in sovrappeso ero il prototipo perfetto per il ragazzo che veniva messo da parte quindi questo mi faceva andare a scuola senza voglia demoralizzato ed è così che esci due anni in ritardo dalle superiori una volta che esci dici, vabbè, dai, mi butto sul lavoro che ho capito che forse di studiare non è che è proprio la massima cosa invece no decido di seguire una fantastica idea di un mio amico di iscrivermi a giurisprudenza semplice facile facile, bella no lui inizia lascia dopo due settimane io tosto duro due anni all'incirca dando sette esami passandone soldamente uno questo mi doveva dare mi doveva dare un po' una è uno stand up comedy incredibile questo mi doveva dare un po' un senso di Giorgio sta succedendo qualcosa che forse non sta andando bene e questo campanello d'allarme però non ti arriva perché sei nella ruota del criceto perché la società ti ha messo nelle condizioni di dire se tu sei in ritardo sei un fallito io a 23 anni esatti quindi in 4 anni in ritardo rispetto alla tabella di marcia di un ragazzo i miei coetani si laureavano iniziavano iniziavano gli stage in qualche studio importante e io li guardavo e dicevo ma io sono fuori non riesco a passare gli esami però non te ne rendi conto me ne fece rendere conto mia madre che un giorno arrivò e mi disse Giorgio forse non è il tuo forse è il momento che inizi a vedere qualcosa magari una professione cosa ti appassiona ero apatico perché ero realmente stavo entrando realmente in una depressione molto brutta e in quel momento decisi di affidarmi al consiglio di mia madre e scoprì il mondo del bar appunto mi consiglia di fare un corso di flair bartending scusate di bartending vado a fare il corso di barman e vedo l'insegnante di allora Matteo Melara che lancia uno shaker dietro la schiena e dico no ma cos'è e lui mi fa guarda è flair bartending allora non so sicuramente flair non è una parola che vi suona tanto familiare vi spiego un attimino cosa significa flair significa l'arte di fare qualcosa con stile classe ed eleganza ovviamente applicato al mondo del bartending flair bartending significa fare il barman con stile ora se voi pensate a quello che vi ho detto prima ero totalmente l'opposto impacciato non parlavo con le persone poca socialità cioè come potevo farlo però decido lo stesso di buttarmi in questo decido di provarci e come ogni corso prevedo un esame io l'ho fatto in parallelo all'università per vedere di tenermi comunque due strade parallele in modo tale che ma va male una provo l'altra l'altra era sicura che andasse male ma cosa andavo avanti a fare quindi cosa succede l'esame di flair capita nello stesso identico giorno dell'esame di diritto privato vado a dare l'esame di diritto privato la mattina ovviamente non sto neanche a raccontare ve lo vengo bocciato malamente nel pomeriggio io contento di questa bocciatura per la prima volta vado ad affrontare un sono contento di divertirti vado ad affrontare un l'esame di flair arrivo ad affrontare l'esame di flair e inaspettatamente vengo bocciato bene grazie le mie disgrazie sono la vostra gioia sono contento grazie molto bene vengo bocciato questo fa molto ridere vengo bocciato e torno a casa torno a casa e vado da mia madre e nei suoi occhi ovviamente quando gli dico nei suoi occhi io non ho visto una delusione per l'ennesimo fallimento vedo uno sguardo dispiaciuto vedo uno sguardo di una mamma che non sa non sa perché il figlio non riesce a trovare la propria strada e questo a me distrusse il cuore fondamentalmente io sono mia madre per cui è normale che ai tempi un ragazzino di 23 anni soffra per questo per cui io passo una settimana realmente molto molto pesante da dove da quella settimana sono riuscito a tirare fuori quella domanda che vi ho fatto prima per cui l'aria del cambiamento ho dovuto avere uno shock molto forte per tirare fuori il nuovo me e iniziò a cambiare il mio modo di vivere la vita e di vivere gli ostacoli non ho più pensato a bocciature in termini di fallimento ma ho iniziato a pensare che ogni sconfitta era semplicemente una lezione nuova allora ho iniziato ad affrontare la vita in questo modo andando sempre contro a tutte le le sfortune o comunque le bocciature che poi nel mio termine nelle gare magari significano gli ultimi posti e non mi sono mai praticamente focalizzato sull'errore ma sono sempre cercato di andare avanti e di imparare ed è da lì che ho iniziato a chiedere cosa bisognava fare per diventare realmente un personaggio di successo nel mio mondo nel mondo del flair bartending e mi disse guarda Giorgio basta allenarsi va bene basta allenarsi ci proviamo ho iniziato ad allenarmi dalle 4 ore alle 6 alle 8 ore al giorno lavorando gratis per potermi permettere le attrezzature perché costano le attrezzature ma se io devo andare ad allenarmi pagare un affitto non ci sto dentro devo anche lavorare devo potermi allenare per cui ero super distrutto psicologicamente dal fatto che non fosse una roba troppo semplice ma comunque ci sono sempre andato ed è sono stati 8 anni perché sono veramente volati dove in questi 8 anni di sacrifici sono riuscito ad ottenere tutto quello che prima hanno detto quindi non starò a ripetervelo e oltretutto sono riuscito anche ad andare in televisione adesso sto scrivendo un libro e riesco anche a collaborare con personaggi del calibro di chef Alessandro Borghese che per me dai tempi ovviamente è un vanto ma questo come succede questa scintilla per tornare al discorso dell'area del cambiamento la scintilla ti scoppia ti scatta esattamente quando inizia ad avere la motivazione io differenzio questo percorso in quattro motivazione disciplina visione e obiettivo punto di riferimento la motivazione ovviamente avete capito per me è stato lo sguardo di mia madre che mi ha fatto scattare in me qualcosa la disciplina l'ha detto anche prima il dottor Mattia è ovviamente in altri termini però la disciplina è quello che ti permette di ottenere il tuo obiettivo perché io come ha detto lui non mi ponevo delle domande con il devo ma mi ponevo delle domande con il voglio perché lo voglio per me stesso io non devo andare ad allenarmi io voglio andare ad allenarmi perché diventerò più bravo e la disciplina però non basta perché senza una visione chiara di dove voglio andare non posso arrivarci perché se no andrei a sbattere in giro io sapevo esattamente dove volevo arrivare ma questa la terza è la più difficile perché la visione la vedete solo voi non potete chiedere ai vostri genitori alle vostre mogli mariti compagni fidanzate di avere la stessa visione che avete voi voi vedete sempre cose diverse e sempre cose che gli altri non riescono a vedere per cui la visione è forse la più importante delle quattro l'ultima è l'obiettivo puntate una persona per voi di riferimento e cercate di capire lui cosa è stato disposto a fare per ottenere quell'obiettivo io prima di lasciarvi voglio lasciare una piccola riflessione che faccio un attimo assieme poi la spiego anche c'è una frase molto bella che dice di non impazzire a cercare di catturare le farfalle ma piuttosto impiegare quelle energie nel creare un giardino rosio in modo tale che le farfalle arrivino ora questa frase è bellissima perché se noi la trasportiamo nei nostri obiettivi nella vita non cerchiamo di impazzire nel cercare di raggiungere le farfalle che sono i nostri obiettivi ma piuttosto impieghiamo quelle energie per coltivare il giardino che siamo noi stessi per far sì che quegli obiettivi arrivino direttamente a noi vi ringrazio grazie grazie grazie